Nel tempo di mezzo tra il nuovo e il vecchio uso diamo valore al momento presente. Così, Altra Città, l'Associazione di Giovani Progettisti, attiva Gubbio dal 2018 nella riqualificazione degli spazi urbani, che negli scorsi giorni ha dato luogo alla prima fase di Via Vai, spazio d'azione temporaneo, un progetto che mira a dare un nuovo volto a Via di Fontavellana a Gubbio, nel quartiere di San Pietro. La direttrice stradale ogni giorno accoglie la vita, il lavoro e la crescita della comunità, ospitando realtà cittadine significative, dall'asilo nido alle scuole elementari, dalla biblioteca al centro sociale anziani. Da febbraio a maggio è partita la raccolta fondi, che ha finanziato questa opera di urbanismo tattico, dove hanno partecipato da aziende, ma anche singoli cittadini, che hanno voluto intervenire subito, dando fiducia alla nostra associazione e a questa nuova metodologia di approccio ai lavori nello spazio pubblico. L'urbanismo tattico è una pratica che può essere applicata in qualsiasi parte della città, che è dimenticata, che è abbandonata o comunque che ha bisogno di essere riqualificata. E quindi per un periodo di tempo sperimentiamo insieme, con tutta la collettività, cosa significa vivere la strada in modo diverso, quindi poterci sostare su panchine, poter apprezzare il verde. E se questo esperimento funziona, quindi monitorandolo, ci piace la via modificata in questo modo, per i progetti futuri definitivi a lungo termine si potranno applicare tutti questi accorgimenti e interventi che sono stati testati con l'urbanismo tattico. Quindi oltre che in via di Fontavellana questo approccio all'urbanistica nuovo può essere utilizzato in altri punti della città. Quindi piantumeremo edera, rampicanti, gelsomini lungo tutta la parete del muro che si trova di fronte alla biblioteca spirelliana per ingentilirla con del verde, con del profumo e per dargli una veste diversa in questo periodo di mezzo. La forza del progetto è proprio che è temporaneo, quindi è un approccio all'urbanistica diverso da quello tradizionale. Questa è solo la prima fase di Via Vai perché poi ci saranno altre fasi in cui metteremo gli arredi, collocheremo anche l'illuminazione e ridipingeremo anche la pavimentazione stradale. Ci tenevamo comunque come altra città a ringraziare ogni singolo cittadino e tutte le aziende che hanno partecipato a questa nuova visione dello spazio pubblico e la ringraziamo anche molto per la fiducia che stanno dando sul nostro operato e sulla nostra attività.